benvenuta o benvenuto lascia che mi congratuli con te perché hai fatto una scelta consapevole ovvero quella di imparare ad attrarre denaro nella tua vita grazie alla legge di attrazione in questo video infatti vedremo insieme tutte le tematiche di cui parleremo e che verranno approfondite nel percorso attrai denaro con la legge di attrazione ma prima ti voglio ricordare che nel box informazioni trovi tanti link utili tra cui un link ad una brochure all'interno della quale potrai vedere quali sono tutti i corsi dell'accademia della legge di attrazione disponibili oggi per te e soprattutto troverai un codice sconto che potrai utilizzare per compiere la tua azione e rendere concreto un cambiamento nella tua vita detto questo partiamo subito con questo percorso che si intitola attrai denaro con la legge di attrazione questo percorso è un percorso in 21 lezioni a una parte che è una parte basica all'interno della quale ci saranno quelle che sono le strutture fondamentali che ti serviranno per imparare ad attrarre denaro con la legge di attrazione nella tua vita il secondo percorso chiamato denaro plus è un percorso di approfondimento dove vedremo insieme anche nella pratica quali sono le tecniche più efficaci da utilizzare per attrarre proprio denaro nello specifico nella propria vita grazie alla legge di attrazione quindi nel primo percorso quello basico troveremo cinque moduli costituiti da 15 video l'accesso ai video è permanente ovvero forever and ever e non solo ma verrà affiancato ad una casa di appartenenza su telegram che altro non è che un gruppo dei pari all'interno del quale troverai supporto in tutte le persone che stanno frequentando come te questo percorso ma soprattutto troverai delle persone che hanno una scala di valori molto simile alla tua e che quindi potranno supportarti molto meglio di quanto non potrebbero fare persone che non hanno mai sentito parlare di legge di attrazione e non hanno mai avuto l'ambizione magari di attrarre qualche soldino in più nella propria vita nel percorso plus invece ci sono due moduli aggiuntivi per un totale di 21 video ma andiamo a vedere quali sono questi moduli e quali sono le tematiche affrontate nello specifico il primo modulo come al solito un modulo introduttivo e ti serve a comprendere come mai puoi utilizzare la legge di attrazione per manifestare nello specifico denaro nella tua vita il primo video è dedicato infatti proprio al concetto che il denaro è energia come tutto nel mondo anche il denaro è energia e come tale subisce quella che è la legge di risonanza il principio di risonanza sul quale si fonda la legge di attrazione il principio di risonanza ragazzi è un principio fisico che vale per tutte le energie che è stato teorizzato da un fisico matematico olandese che si chiama christian uigen nel 1665 quindi non stiamo parlando di teorie non stiamo parlando di filosofie non stiamo parlando di religioni non stiamo parlando di credo non stiamo parlando di cose strane stiamo parlando di energia tutte le energie sono soggette a questo principio di risonanza delle energie quindi dato che il denaro come qualsiasi forma esistente nell'universo e non solo nel nostro piccolo mondo è energia è soggetto anch'esso a questa legge di risonanza quindi potremo andare a dire che i pensieri ovvero quello che è la nostra forma mentis che genera i pensieri che generano le emozioni che generano le nostre energie e vibrazioni possono entrare in risonanza col denaro e quindi i nostri pensieri possono attirare e diventare quindi soldi letteralmente il denaro non ha etica andremo qui ad introdurre tutto quello che è il lavoro che bisogna fare interiormente per dissociarsi da tutte quelle credenze limitanti che ci hanno pervaso la mente fin da quando eravamo piccoli sul denaro che ci hanno pervaso la mente fin da quando eravamo piccoli nel secondo modulo andremo infatti a lavorare proprio sul mindset ragazzi io ho fatto tanti percorsi finanziari ho fatto i percorsi dai più grandi formatori non solo italiani ma proprio a livello mondiale e spesso ve ne parlo anche nei miei video gratuiti su youtube la cosa comune di tutti questi percorsi e che dicono tutti questi grandissimi autori di best seller finanziari e formatori mondiali è una ovvero che tutto parte dal mindset qualsiasi corso finanziario ti può dare una capacità tecnica pari al 10 20 per cento massimo ma quello che ti deve cambiare per far sì che la tua vita finanziaria cambi è la testa il mindset la mentalità la forma mentis ok che ha un ruolo pensate fino all'ottanta per cento 80 90 per cento quindi vedremo insieme delle tecniche tecniche basilari molto facili e veloci anche da applicare nella propria vita ma che possono essere davvero molto impattanti per aiutarvi a sistemare tutta quella che è la vostra situazione finanziaria e la vostra capacità di manifestare denaro nella vostra vita il primo video sarà dedicato appunto alla ruota della vita che è una tecnica di monitoraggio che può essere fatta giornalmente settimanalmente mensilmente o annualmente poi vedremo insieme nel secondo video come passare dal nostro vecchio mindset quello fatto di paure credenze limitanti blocchi pregiudizi giudizi e quant'altro ad una nuova forma mentis molto più libera molto più aperta che si basa su un concetto di utilità inutilità o dannosità che quindi non ha giudizio ma valore e vedremo insieme qual è la potenza di quelli che io ho chiamato repetita trigger il repetita trigger mi soffermo un attimino per spiegarveli sono quelle parole quelle frasi che vanno a triggerare laddove triggerare significa innescare ragazzi anche qui tante volte mi sono sentita ripetere ma il trig non sai cosa significa una cosa negativa no ragazzi negativo o positivo non significa niente per le energie l'energia non ha etica il trigger non ha etica l'innesco non ha etica l'etica gliela dai tu a seconda dell'uso che ne fai esattamente come anche al denaro l'etica del denaro è quella che stabilisci tu se utilizzi questo denaro per fare qualcosa di buono di utile per la società o per te stesso oppure se utilizzi questo denaro per fare qualcosa di dannoso per la società o per te stesso per gli altri quindi questi repetita trigger a cui corrisponde anche un documento che trovate sempre sullo shop sono praticamente delle frasi che non solo vanno ad innescare un cambiamento nel nostro subconscio che pensate è quello che lavora per il 90 per cento non solo nei confronti del denaro ma nei confronti della vita totalmente vanno ad innescare un'apertura un'apertura che si manifesta non solo in forma di pensiero ma anche pensate si può manifestare in forma di ganci neuronali ok di associazioni tra neuroni che sono quelle parti del nostro cervello che ci servono per pensare e per vivere ok questi repetita trigger sono importantissimi imparare a gestire questi queste ripetizioni che vanno a triggerare il nostro subconscio quindi che ci rendono capaci di fare qualcosa o di non farla anche se non ce ne accorgiamo è importantissimo e in questo capitolo vi faccio capire benissimo come funzionano nel modulo 3 andremo a vedere quella che è l'energia universale come si muove l'energia universale abbiamo detto che il denaro è energia quindi che relazione c'è tra la legge di attrazione e il denaro ma soprattutto l'universo che è energia pura si muove per due diciamo così elementi un elemento espansivo ed è da qui che abbiamo diciamo così dedotto che l'universo sia stato generato da una grande esplosione da un big bang ok quindi come facciamo a mantenerci all'interno del flusso universale e a mantenere la nostra espansione desiderando ed è per quello che non c'è limite a ciò che possiamo desiderare ma questa espansione deve sostenere anche un altro elemento che è quello dell'equilibrio e l'equilibrio si può sostenere quando ad ogni emozione che noi siamo in grado di generare e di inviare all'universo e che quindi creerà un'energia una determinata vibrazione dell'universo possiamo dare un'espressione concreta e quindi un equilibrio questo modulo è veramente molto interessante ragazzi nel modulo 4 vedremo insieme come trovare e mantenere il nostro centro ragazzi noi dobbiamo rimanere in equilibrio e per rimanere in equilibrio dobbiamo sapere dov'è il nostro centro in modo tale da distribuire bene le nostre forze poi vedremo insieme che i come che tutti noi diciamo ma come faccio i come sono di competenza dell'universo non sono di nostra competenza noi abbiamo altre competenze ovvero accorgerci di tutte quelle opportunità che l'universo ci mette intorno perché l'universo può decidere mille come diversi è infinito quindi ha infinite opportunità ma noi ci accorgeremo solo di quelle opportunità specifiche che sapremo utilizzare già nella nostra vita ok quindi vedremo insieme il focus e l'attenzione proprio in questo modulo 4 nel modulo 5 vedremo insieme innanzitutto quali sono le strategie da utilizzare per attrarre denaro nella nostra vita poi vedremo insieme come riconoscere come distinguere il valore dal mero denaro quindi il concetto di valore e il concetto di corrispondenza tra valore e denaro e infine in chiusura anche qui vedremo insieme che per l'universo ogni nostro desiderio è un ordine per cui non c'è distanza tra ciò che noi chiediamo e ciò che ci viene dato in forma ovviamente di opportunità ma sta a noi saper cogliere saper vedere e saper cogliere quell'opportunità per farla funzionare nella nostra vita questo è il percorso basic relativo al denaro ma vediamo adesso insieme qual è il percorso plus nel percorso plus come vi ho detto ci sono due moduli in più questi due moduli sono dedicati soprattutto alla parte pratica ovvero cosa devo fare nella mia vita per mettere in pratica quello che c'è nel percorso plus innanzitutto un modulo sarà dedicato agli strumenti agli esercizi ovvero innanzitutto come capire la nostra forma mentis come pensiamo perché pensiamo in quel modo lì che parole utilizziamo poi prendere confidenza col denaro tanti di noi non hanno confidenza col denaro perché magari hanno vissuto in una famiglia in cui il denaro veniva considerato sporco veniva considerato cattivo veniva considerato fonte di litigio fonte di male o addirittura veniva considerato un qualcosa che oggi lo guadagno ma domani l'ho già speso tutto e non so dove se n'è andato non so dove è uscito non so come ho fatto come come mai non arrivo mai alla fine del mese e poi vedremo insieme come costruire una bucket list o una lista dei 101 desideri come dice igor sibaldi ricordiamoci sempre che il denaro è un mezzo che facilita la vita non è il fine della nostra vita e quindi spesso e volentieri a monte del nostro desiderio di avere dei soldi ci sono altri desideri di ben più alto valore che riguardano la nostra vita che riguardano il nostro stile di vita che riguardano magari la nostra salute oppure lo stile di vita che vogliamo condividere con i nostri cari e questo è importantissimo lo vedremo nel modulo 6 nel modulo 7 ovvero quello conclusivo vedremo insieme degli importanti approfondimenti ovvero il combing il combing è un metodo per focalizzarci con attenzione e meraviglia verso ciò che desideriamo realmente e quindi anche verso le opportunità di fare soldi e poi vedremo insieme due approfondimenti per mantenerli questi soldi con i barattoli di hacker il metodo dei barattoli di hacker hacker è un formatore americano di cui io ho frequentato i corsi ho fatto tre percorsi con hacker percorsi finanziari e lui mette sempre alla base quindi anche quando la struttura in maniera più complessa questa tecnica dei barattoli perché è molto semplice la possono fare anche i bambini è molto divertente ma ti aiuta davvero a comprendere come investire il tuo denaro nelle cose giuste per te e soprattutto andremo a vedere grazie ai quattro quadranti di robert kiyosaki famosissimo autore di padre ricco padre povero del quale ho frequentato anche lì i corsi vedremo insieme come individuare tutte quelle opportunità di far sì che sia il denaro a lavorare per noi e non noi a dover lavorare come degli schiavi per il denaro e questa semmai è la cosa più valorosa più di valore di tutto il corso qui si chiude il corso relativo al denaro vi ricordo che nel box informazioni troverete tanti link utili e soprattutto uno in particolare all'interno del quale vedrete tutte le possibilità di corsi appartenenti all'accademia della legge di attrazione inoltre per te che hai fatto una scelta consapevole ovvero quella di guardare questo video al fine di cambiare la tua vita ho messo a disposizione un buono sconto utilizzabile in tutti i momenti in cui ci sono i corsi a prezzo pieno sullo shop quindi è utilizzabile tutto l'anno ovviamente tranne il periodo dei lanci e non è cumulabile con altre promozioni ed è utilizzabile per tutti i corsi percorsi strumenti e masterclass quindi non mancare di andare nell'info box di scaricare la brochure e di avere accesso al tuo sconto che potrai utilizzare per la tua azione consapevole che ti consentirà di portare nel concreto ovvero di manifestare la vita dei tuoi sogni a me non rimane che salutarti se vuoi vedere gli altri video relativi agli altri corsi trovi tutto sempre nel box informazioni ma prima di lasciarti andare ovviamente voglio ricordarti che per l'universo ogni tuo desiderio è un ordine basta che tu impari a chiedere nel modo corretto